bella a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video io sono Treyofite e io ci sono qui su un video speciale e perchè dico così? perchè da oggi in voi mi vedrete come uno youtuber che però è uno staffer di un server di Microsoft voi vedete il video il giorno dopo perchè ieri ho fatto il proprio per il server di nome Big Hero PvP vi lascerò il link di TTS in descrizione se volete li potete fare il provino c'è ovviamente il fondo dell'online il pilo server di Minecraft ancora non ce l'ho neanche io quindi ovviamente mi spammerò il link anche quanto per impressione credo e niente ciao a tutti salutandoli